Bessini, Amendola, Bessini, Bessini Oggi ci vuole due qualità, a mio avviso, cara mia, l'onestà e il coraggio. Tu fumi, tu fumi, tu fumi, tu fumi, tu fumi, tu fumi nonostante la tua età, tu fumi, tu fumi, tu fumi, tu fumi, tu fumi, tu fumi nonostante la tua età, tu fumi molto! Vedi che ho ragione io? Che la miglior difesa è l'attacco, quando si attacca si vince. Bertini è stato un combattente intransigente contro il fascismo. La libertà non è mai una conquista definitiva. No, parli di noi e dici che stai figli tuoi! Oh no! Ragazzi, ma voi che cosa ne sapete realmente di Sandro Bertini? Cosa vi dice il nome di Bertini? Un disegno di pazienza. Avrei avuto, non lo so, 10-12 anni. Mi padre aveva un libro di pazienza a casa in cui tra le varie tavole c'era questo disegno di Bertini che guarda l'Italia dall'alto verso il basso. Era piccolo e con la pipa, però, insomma, voleva dire tanto. Per me Bertini sono una serie di foto in bianco e nero e un nome molto importante. Ho in mente la figura, la figura proprio fisica, effettiva, l'icona pop di Bertini. La prima immagine di Bertini che ho avuto, cioè mi è stata trasmessa, diciamo, è un programma in televisione, mi ricordo con mio nonno, l'abbiamo visto, sul caso Rampi, del bambino che era... precipitato nel... Nel pozzo di Bermicini. E mi ricordo la scena di Bertini che si commuove ascoltando i lamenti del bambino e gemiti attraverso il microfono. E lui che si leva gli occhiali e si, appunto, asciuga le lacrime. Immagini lui con la pipa, lui con Berlinguer, sono tutte immagini che sono rimaste proprio. Uno le vede e subito le ricollega al personaggio. Lui che esulta ai gol dell'Italia. Presidente, un gran bel gol, Graziani. Ormai siamo nella zona di sicurezza, l'ha detto prima, bisogna che segnino il secondo gol. L'hanno segnato ed è veramente stato un bel gol. Bravo. Graziani, no? Graziani. Eh, ma Graziani, eh, Graziani. E gli aveva promesso i due gol, Presidente? Sì, me l'aveva detto, ma aveva mandato un biglietto, le prometto il secondo gol. Oh, beh, beh, Arziani, adesso non diranno più male di lei. Bravo, Graziani. Bravo. Questa tutto. Mi avevano chiesti due, Presidente, mi avevano fatti due. Bravo. Go! La doppio. Tardelli, Tardelli. Esultiamo con Terpini. Finito. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Hai giocato male, Bertone. Non aveva... No, Bertone, lo faceva lui in sette. No, tre, quattro. Eh? Io ho metto il last. Devo metto il last. Siete campioni del mondo. Vi ritrovate sull'aereo presidenziale a giocare a Scopone con Sandro Pertini. Ma, della verità, è andata bene la partita al mondiale, ma per me il Presidente e la partita a Scopone è stata una sconfitta. Ha vinto Beazzotte e Causio, abbiamo avuto qualche diverbio. Io e il Presidente sulla giocata, naturalmente, però qualche errore c'è stato da parte nostra. Poi noi l'abbiamo messa sulla sfortuna, però effettivamente non siamo stati all'altezza del titolo mondiale vinto, almeno io e il Presidente. È vero che sbagliò il Presidente, il punto decisivo? Non si può dire perché era il Presidente, però lui fu ingannato dalla giocata di Beazzotte che poi diventò anche una contestazione. E quindi sa come era poi sanguigno il Presidente, però effettivamente qualche tempo dopo, quando ho smisi di giocare, mi mandò un bellissimo telegramma, prendendosi la responsabilità della sconfitta e quindi invitandomi magari a una rivincita con gli avversari precedenti. Allora io mi alzavo e mi scatenavo ad applaudire, mentre, ripeto, il re di Spagna applaudiva un po' di nascosto perché c'era Smith tutto nero in volto perché stava perdendo la squadra tedesca. All'ultimo penalty, all'ultimo gol, al terzo, ho preso un abrivo che se non stava attento andavo giù dal parattepetto e mi spaccavo la testa. Il successore al Pirinale ci sarebbe stato allora, non adesso. Presidente Pertini vinciamo i mondiali in Spagna, Presidente Napolitano vinciamo i mondiali in Germania, è una singolare coincidenza. Una singolare coincidenza, io per la verità ero stato appena eletto Presidente della Repubblica con la mia prima uscita dall'Italia, quel viaggio a Berlino e il precedente di Pertini in qualche modo mi condizionava, ma mi esponeva anche ad un interrogativo. Se io vado lì per la finale e la nazionale non vince come con Pertini ma perde, insomma non per essere superstizioso ma comincia un po' male la mia esperienza di Presidente. Ma siamo italiani quindi, punto. Ma non mi potevo, non mi potevo sottrare, non volevo sottrarmi ebbi fortuna all'inizio della mia presidenza e qualcuno mi diceva, ma lei fece il salto come fece Pertini. Pertini, voi sapete che Pertini saltò sulla pedana dove era assistendo a quella Pertini. Io dissi semplicemente che dentro di me avevo fatto un salto altrettanto alto, poi ognuno ha il suo temperamento. Io il salto me lo tenne dentro e lui lo fece di fronte agli occhi di tutto il mondo. Sono partiti con me sul mio aereo, sono venuti, l'ho caricati tutti sul mio aereo. Ho avvertito il Pirinale e li ho portati a mangiare tutti al Pirinale. Mi sono messo vicino Zoff, da una parte Zoff, Berzotte dall'altra parte. Hanno mangiato come lupi, dico qui rimangono, rimangono e rovinano il Pirinale. E' stata per me una gioia, ma quel giorno non l'ho mai dimenticato. Sandro Pertini è stato il primo presidente rock o pop della storia italiana. Ed è stato il primo presidente parlante. Nel senso che è diventato una specie di eroe popolare, amatissimo da tutti gli italiani. Nel senso che è diventato una specie di ero popolare, amatissimo da tutti gli italiani. So che per la mia generazione e per chi l'ha conosciuto, rimane certamente un punto di riferimento importante. Come si può rimanere umani rappresentando l'istituzione. Torneranno i figli delle stelle sui tuoi sedili in pelle, le penne stilo in mano e le vacanze in treno. Forse anche Pertini per un poker con John Wayne. Quello che resta del sole te lo porto a casa. Stasera ho voglia di cantare, di gridare, di abbaiare come un cane. Quello che resta da dire lo diremo domattina. Stasera ho voglia di cantare, di gridare e poi ricominciare. Stasera ho voglia di cantare, di gridare e poi ricominciare. Insomma hai costretto tanti ragazzi a scoprire Sandro Pertini. Ma diciamo che è stato molto bello vedere che ai miei concerti sia bambini che ragazzini che non necessariamente conoscevano Pertini. Cantano appunto anche la strofa dove si dice che Pertini gioca a poker con John Wayne. Perché Sandro Pertini è stato in fondo l'immagine autoctona dell'italianità, insomma più importante che noi abbiamo avuto. Nella sua vita di combattente ci sono almeno due episodi che meritano di essere ricordati. Uno è un fallito attentato del 1943 a Roma, una città occupata dai tedeschi. C'è il progetto di far saltare in aria con delle cariche esplosive. Il teatro Adriano con tutti i gerarchi nazisti e fascisti chiusi dentro. Insomma il nonno degli italiani, questo vecchietto così rassicurante, era anche un incendiario. Sbarrare le porte, sterminarli tutti, praticamente come Quentin Tarantino in Inglourious Bustards. I carri armati, i fari spenti nella notte sotto la pioggia Hanno lasciato strane tracce sull'asfalto Piene di sabbia Ci risulta che il Pertini stia progettando un'azione avversiva grave, molto grave. Cerchi di ricordare. Ha mai parlato di qualcosa che possa fare pensare a un attentato? Un attentato? E perché no? È il tipo d'uomo che sarebbe capace di farlo. Ecco, questi sono fotogrammi da un film sul giovane Pertini Interpretato da un giovanissimo Maurizio Crozza Lo ucciderebbe lei Mussolini? Perché non lo uccide lei? Durante una riunione nazifascista viene posta una bomba d'orologeria sotto il palcoscenico dell'Adriano Per un difetto del congegno la bomba non esplode Il tirannicidio è uno dei temi che pervadono tutta la storia della nostra cultura Sì, lo consideriamo lecito e se vogliamo chiamarlo terrorismo lo possiamo chiamare terrorismo Ma senza quel carattere denigratorio che si attribuisce alla parola Un terrorismo giusto Pertini può essere considerato un terrorista dalla parte del giusto Come sono terroristi tutti quelli che come è stato terrorista anche Nelson Mandela in Sudafrica Anche lui Ma lui era qualcosa di più Era uno che sceglieva la via più rapida Pacifista ed eroe di guerra nello stesso tempo Questo è Sandro Pertini Tanto pacifista che inizialmente è contrario alla guerra E organizza addirittura una manifestazione contro D'Annunzio che era andato a parlare sulle meraviglie del combattimento Ma poi una volta chiamato in guerra nella prima guerra mondiale decide di farla come si deve Ero contro la guerra ma dal momento che avevo Che ero ufficiale e avevo un comando responsabilità Ho fatto il mio dovere Anche i giovani oggi non vogliono la guerra Chissà cosa Naturali hanno ragione La guerra, signorina o signora? Signorina Le donne sono tutte signore Sono scemmi questi uomini Una signorina così bella anche Oh, santo Dio Eh, ma c'ha le vusciacche e c'ha la fiancola di presumiglia Eh, si vede, si vede Lei dice Difficile nella scelta Si vede, si vede Va bene, stia attenta Però a un certo momento si prende un compagno della vita Perché rimanere zittura tutta la vita è una maniera Eroe di guerra lo è stato sul serio Pertini E ha imparato a conoscere l'orrore della guerra E da lì che nasce il famoso discorso di insediamento Si svuotino gli arsenali e si riempiano i granai Che lo renderà famoso in tutto il mondo L'Italia, mi avviso, deve essere nel mondo portatrice di pace Si svuotino gli arsenali di guerra Sorgente di morte Si colmino i granai Sorgente di vita per milioni Di creature umane Che lottano contro la fame Il nostro popolo generoso Si è sempre sentito fratello A tutti i popoli della terra Pertini si iscriverà al Partito Socialista soltanto nel 1924 Dopo l'omicidio di Giacomo Matteotti Ma è stato socialista da sempre È nato a Stella in una famiglia di piccoli proprietari terrieri Molto solidali Spicca la figura della madre La sciaggina A cui lui resterà affezionato per tutta la vita Che gli impasserà degli ideali di giustizia sociale Che rendono molto simile sotto questo aspetto la figura di Pertini A quella di un altro grande ligure del nostro passato Giuseppe Mazzini Per farla breve Per me la libertà non può andare disgiunta dalla giustizia sociale Come la giustizia sociale non può andare disgiunta dalla libertà Non vi può essere vera libertà se non vi è anche giustizia sociale Non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale Come non si può avere vera giustizia sociale senza la libertà Il fascismo sta mostrando il suo volto più duro e repressivo Tra le vittime della repressione c'è il fondatore dei socialisti italiani Filippo Turati Il giovane Pertini organizza la fuga di Turati da Milano Dove è sottoposto alla sorveglianza speciale sino in Francia Lasciare la patria è sempre una necessarazione Poi lasciavo mia madre alla quale io ero legato da grande amore Lasciavo gli amici alla mia professione Siamo partiti dalla mia città da Savona di notte Poi siamo arrivati in Corsica E poi era giù in esilio per vivere onestamente Ho dovuto fare prima e la verdetta che si sueta Mi alzavo a luna di notte e andavo in un garage Dove arrivavano i tassi e lavavo i tassi Poi ho fatto l'imbianchino, il manuale muratore Poi si trasferisce a Nizza dove lavora come comparsa in un film di Rex Ingram Comparsa con bicicletta perché si guadagnava di più Stanco dell'antifascismo parolaio decide di rientrare in Italia E l'aprile del 1929 quando per una circostanza imprevedibile viene catturato a Pisa Quel giorno e una domenica si gioca la partita Pisa-Savona Pertini è di Savona Da un pullman di tifosi del Savona scende qualcuno che lo riconosce e lo denuncia Comincia così la sua esperienza di carcerato In nome di Sua Maestà e Re d'Italia Il Tribunale, visti gli articoli numero 5, legge 25 novembre 1926 E numero 285, codice penale Condanna Pertini e Alessandro alla complessiva pena di anni 10 e mesi 9 di reclusione E viva il socialismo! Abbasso il fascismo! Viva il socialismo! Interdizione perpetua dai pubblici uffici Tre anni di vicinanza speciale e pagamento delle spese processuali Sandro Pertini è uno dei personaggi più noti della vita politica italiana Ed è anche uno di quelli che di fronte al fascismo ha sempre mantenuto un atteggiamento più fermo E anche più coraggioso in momenti diversi Come altri, come tanti altri Ecco, lei non ha mai accettato umiliazioni nella sua vita A un certo punto la madre chiede la grazia Firma la richiesta di grazia dicendo che mio figlio è malato, un giovane a 30 anni Pertini si indigna, scrive una lettera di fuoco dicendo ai suoi carcerieri Non tenete conto della richiesta che ha fatto mia madre E poi scrive alla madre dicendo ma come hai potuto farmi una cosa del genere, mamma E lui era molto attaccato invece alla madre Era un tradimento quello Cioè secondo me non è... No, non è un tradimento perché tu sei malato, pensa, ci sta in galera Secondo me quello per lui era considerato un tradimento, un alto tradimento Un'onta, una vergogna Quindi non lo capisco perché l'ha fatto Io penso che avrei accettato la grazia Ma lui la spiega, la spiega questa tenuta in carcere In una bella intervista a Oriana Fallaci Dice sarebbe da spavare di dire sono contento di aver vissuto 15 anni in prigione Parliamoci chiaro Oriana La mia giovinezza si è esaurita nelle rinunce Era un giovane ardente, suberante Così quella rinuncia ha pesato su di me Però, lui poi aggiunge Un uomo di fede non può sfuggire ai sacrifici E deve pagare di persona Altrimenti non è un uomo di fede Io in carcere pensavo Non sono qui dentro per un reato comune Ma per aver difeso la mia fede Mio nonno era Bertini Aveva le ossa di legno d'ulivo Le sue vene erano radici Ed era il classico Ligure schivo Mio nonno era Bertini Noi fumo arrestati con altri quattro partigiani socialisti Il 15 ottobre del 1943 Comportati a Regina Celi Poi in via Tasso E i patrioti socialisti prepararono la nostra evasione Sandro Bertini, Saragat e altri socialisti Sono detenuti nel braccio della morte di Regina Celi Ma in quello stesso carcere c'è il dottor Monaco Che è il medico Ma è anche un partigiano E c'è sua moglie Marcella Saranno loro che organizzeranno Insieme ad altri socialisti romani La fuga di Bertini Mia nonna materialmente falsificò i moduli del carcere Li consegnò a Gala e a Schlitzer Che ne curarono la trasmissione all'ufficio matricola Per il tramite del quale doveva avvenire la liberazione Nenni aveva deciso che la liberazione Dovesse riguardare Saragat e Bertini Ma Bertini si oppose fermamente Dice o tutti o nessuno E quindi la scarcerazione riguardò sette persone Non più le sole due originariamente Come si era originariamente deciso Ovviamente questo complicò le cose Perché fare sette ordini di scarcerazione Era più complesso Ma tutti concordarono nella necessità di seguire Quello che Bertini voleva Grazie a tutti Uno dei nostri, dei quattro che non sapevano che noi si stava evadendo, dice a galla gli altri, ma io voglio i miei gemelli e gli altri dicono guardi che il vice capo che ha questi gemelli in custodia, è uscito adesso perché è già tardi, domani mattina ha la chiave lui, domani mattina lei torna e avrà i suoi gemelli, lui dice non esco, balboziente, non esco se non mi si danno i miei gemelli un ricordo di famiglia. Io capisco che viene qui un ralentamento, un pericolo, un ostacolo, uno zeppo che ci avrebbe mandato all'aria tutto quanto e allora prendo questo nostro amico, compagno che veniva dalla Francia e gli dico ma tu sei uno sciagorato, non vedi che ci vogliono mandare via prima del coprifuoco e per due gemelli tu ci vuoi far trattenere qui tutta la notte fino a domani mattina e voi sapete che i balbozienti quando si arrabbiano diventano sempre più balbozienti e allora mi ricordo che lui mi disse rivolgenza a me perché l'ho aggredito per dire per tini tu mi dava il pepepe ma che pepe che pepepe fuori gli ho dato un caccio negli stinchi e gli dico esci con noi usciti di qui non è vero con saragate noi siamo evasi stiamo evadendo se ci prendono ci fucillano sul posto Avete mai visto fuggire le lepri? Allora... Francesco! Questo è un frammento dell'opera che il maestro sudafricano William Kentridge ha dedicato alla memoria della città di Roma. È un'opera che nasce dalla pulizia selettiva delle pietre di questa antica città che è destinata a scomparire quando il tempo prenderà il suo pravvento. Quello che ci si domanda è se, rappresentando in questo modo la resistenza, non venga da pensare a quanto effimera è la nostra memoria destinata a svanire di quella stagione gloriosa. La resistenza nasce da una scelta trasgressiva, da una scelta di rottura, da una scelta di una minoranza. Furono 150.000 i partigiani combattenti. Se noi ricordiamo i milioni di italiani iscritti al partito nazionale fascista, capite benissimo come si tratti di una minoranza anche abbastanza esigua. Eppure quella minoranza di folli riscatta la saggezza delle maggioranze. Io credo che lì ci sia un intrinting umano che Pertini condivide con tutto il movimento partigiano. Pertini fu un custode della memoria della resistenza. Sì, soprattutto di una resistenza come grande prova individuale di una resa dei conti con te stesso, di una dimensione etica della resistenza. L'atteggiamento di Pertini nei confronti di Moro, che a molti sembrò impietoso, questo suo rifiuto di ogni tipo di debolezza, questo suo rifiuto di ogni tipo di trattativa col nemico, questa sua intransigenza nei 55 giorni del rapimento Moro, sono da ascrivere alla sua esperienza partigiana e al modo con cui a quell'esperienza lui attingeva continuamente nel suo ruolo istituzionale. Per Pertini, come per molti altri partigiani, i 20 mesi della resistenza furono l'apogeo della loro biografia. Dopo Pertini è diventato Presidente della Camera, è diventato Presidente della Repubblica, ma il punto più alto della sua vita è sempre stata la resistenza. La resistenza è il momento all'interno del quale la tua dimensione affettiva, il tuo amore, i tuoi rapporti sessuali, il tuo progetto per il futuro, il tuo impegno politico, è tutto, come dire, sopra le righe, è tutto in maniera accentuata, è tutto in maniera spasmodicamente dinamica. Vorrei sapere qual è stato il tuo primo amore. Il mio primo amore? Eh, ma tu sei una birichina. Sai, i primi amori ne ho avuti quando ero giovane. Poi che cos'è accade, figliola? Che io sono stato, ho fatto la guerra partigiana nel nord e avevo con me, che si batteva con me, coraggiosamente si è battuta con me, una giovane partigiana, molto più giovane di me. Questa giovane partigiana è diventata mia moglie. Il mio primo amore è diventata mia moglie. C'è un'altra giovane partigiana, molto più giovane. Ci ha insegnato lei la libertà e la vita sua è già una storia. Caro presidente, grazie a sé, piange tra la polla anche per me. Se non ha paura è in combattia ancora, forte nella sua onestà. Presidente Pertini, questo mondo è un mondo di assassini, senza volto né nome, richiamare di una generazione. Finita la guerra, Pertini alterna l'attività politica alla professione di giornalista come direttore del lavoro di Genova. Quando nel 1960 il Movimento Sociale Italiano organizza il suo congresso a Genova, Pertini lo vive come una specie di affronto, non tanto personale, quanto a una città medaglia d'oro della resistenza. Il congresso dovrebbe essere presieduto da Basile, un personaggio legato al fascismo che Pertini aveva condannato a morte e riteneva un criminale di guerra. Cosa succede a Genova e che importanza ha quel discorso incendiario che pronuncerà Pertini a Genova? Ce lo spiega Massimo Brutti, storico, politico, giurista. E' interessante vedere che in realtà i dirigenti del Movimento Sociale, visto come si mettevano le cose, erano pronti a non farlo il congresso a Genova, a revocarlo, purché ci fosse un'indicazione del governo, un'ordine di non tenerlo per ragioni di ordine pubblico. E' Tambroni che ricerca lo scontro. Tambroni vuole andare ad una contrapposizione prendendo come spunto il congresso di Genova. Pertini va a Genova e' il 28 di maggio del 1960. Tiene un comizio a Genova molta gente, molti operai, molti giovani e il comizio è di solito considerato come la miccia, insomma la scintilla che accende il Movimento. Ci sarà un forte movimento nella città e i protagonisti saranno i giovani. Poi li chiameranno i giovani delle magliette a strisce. In maggioranza giovani proletari, giovani operai. E il congresso salterà. E salterà anche il governo d'Ambroni. Dopo una serie di manifestazioni in varie parti d'Italia durante le quali la polizia spara sui manifestanti. ci saranno dei morti. Beh, Pertini in quei giorni e' l'emblema della protesta antifascista. è amato dalla gente è il nostro presidente l'acclama noi bambini chi è il Sandro Pertini? Pertini 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 sopra l'esco nens Pertini sopra l'esco nens Pertini sopra l'esco nens sempre elegantissimo che parlava un italiano impeccabile e i giovani rivoluzionari del 68 i capelloni come si chiamavano allora si crea immediatamente un legame destinato poi a rafforzarsi nel tempo. Pertini comincia a parlare ai giovani e i giovani anche i più tumultuosi anche quelli più diffidenti nei confronti della politica lo ascoltano e lo ascoltano con interesse con affetto e anche bisogna dire con un certo divertito senso di appartenenza. Benvenuti nel mio studio avete girato un po' eccomi qua questo è il mio studio bravi i giovani quando entrano qui dentro è come una ventata di primavera che entra nel mio studio poi io mi trovo molto bene con la gioventù perché gli anziani che hanno i capelli bianchi come li ho io in generale sono dei dei borbottoni e non si sta molto volentieri con la gente anziana io invece sto molto volentieri con la gente con i giovani Senta signor Presidente quali sono stati i fatti salienti per cui lei ha intrapreso la carriera politica? Ma non è una vera carriera è un cammino che io ho iniziato è un cammino di un uomo di fede che ha sempre sempre stato coerente e ha cercato di essere sempre devota la sua fede politica partendo dalla Sicilia nel 1976 ero proprio alle prime armi mi capitò di seguire un viaggio di protesta di bambini nati nelle baracche del Belice Don Riboldi li portò questi bambini una cinquantina di bambini fra i 5 e gli 8 anni a trovare il Presidente del Consiglio che era Moro il Presidente della Camera e il Presidente del Senato da Moro fu un incontro molto freddo Palazzo Chigi non tanto perché Moro non si intenerisse di questi bambini ma credo che gli desse fastidio l'idea di un prete che faceva politica insomma per un cattolico laico come Moro era qualcosa che non ci stava insomma e da Palazzo Chigi ci facevamo 100 metri e andavamo alla Camera Pertini ci ricevette invece nella Sala della Lupa aveva fatto apparecchiare delle tavolate con delle montagne di croissant cornetti pane e quindi questi bambini che venivano da un viaggio in treno molto faticoso in seconda in terza classe senza cuccette erano molto felici di questa accoglienza e quando li ebbe tutti seduti passava da uno all'altro per ognuno aveva un saluto una parola curiosa insomma si comportò come un nonno e aveva questo modo assolutamente informale di entrare in confidenza con i suoi interlocutori quando i bambini avevano finito la colazione Pertini si avvicinò a Don Riboldi e senza neanche appartarsi si mise la mano in tasca tirò fuori il suo libretto personale d'assegni e gli fece un assegno da 3 milioni e Don Riboldi rimase ovviamente tramortito perché non si aspettava un gesto così generoso e quindi fece anche le mosse un po' di non dico di rifiutarlo ma dire un po' troppo ma Pertini fu sbrigativo disse assolutamente lei questi li userà certamente per aiutare questi bambini e quindi sono sono soldi che lei merita Bertini è presidente della Camera quando esplode lo scandalo dei petroli è uno dei primi grandi scandali della Repubblica Italiana è uno scandalo trasversale che coinvolge tutti i partiti alcuni giovani magistrati vanno a trovare Pertini e gli sottopongono questa questione spinosissima per la Repubblica uno di quei giovani magistrati Mario Almerighi ce l'ha raccontato io ero pretore a Genova e avevo fatto delle indagini sui petrolieri in queste indagini avevo scoperto insieme a due colleghi una tangente che corrispondeva al 5% dei vantaggi che i petrolieri ricavavano dall'approvazione di leggi preparate da loro praticamente una sorta di compravendita del Parlamento quindi mi preoccupai proprio dell'assetto istituzionale del Paese nello scandalo erano coinvolti ben 5 ministri dell'industria che erano i proponenti di questi disegni di legge per cui il destinatario di questi atti che sarebbero andati a finire alla commissione inquirente era Pertini per cui io pensai di andarlo a trovare io Adriano Sanza e Carlo Brusco gli altri due pretori lui ci diede un appuntamento in via dell'impresa con l'ingresso secondario della camera e ci ricevette all'ultimo piano ci fece segno col dito non parlate seguitemi noi devo dire che siamo rimasti un po' sbalorditi da questa accoglienza e imboccò una scala chiocciola che scendeva 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 come fosse non lo so una scala di un castello medievale alla fine arrivamo giù piano terra aprì una porticina chiuse a chiave ci girammo intorno ed era pieno di lavatrici cioè era la lavanderia della camera qui possiamo parlare scusate se non ho parlato prima ma questo palazzo è pieno di microspie queste furono le parole testuali che io non ho più dimenticato a cosa devo questo incontro ditemi io avevo portato il contratto vero e proprio tra i petrolieri e il segretario amministrativo della democrazia cristiana che rappresentava il segretario degli altri partiti lui guardò attentamente questo documento e poi gli fece vedere alcuni assegni perché in questo contratto c'erano gli estremi del conto corrente bancario dove i petrolieri riversavano la tangente e lui vide che c'erano degli assegni intestati allavanti e socialisti e proprio la scena che io non ho mai dimenticato Pertini dopo aver visto questi assegni gli scesero due lacrime si tolse gli occhiali si asciugò così ma erano lacrime sincere non erano era proprio lacrime di dolore vedo che c'è anche il mio partito coinvolto dovete andare in fondo guardi presidente noi siamo venuti proprio perché preoccupati per le sorti istituzionali della Repubblica sono fatti gravissimi sono fatti gravissimi ma non esiste una democrazia senza legalità non esiste una democrazia senza che i suoi rappresentanti siano eticamente credibili le istituzioni sono credibili se c'è moralità delle istituzioni petrolieri che pagano ministri e parlamentari per ottenere leggi favorevoli lo scandalo è enorme ce n'è di che far tremare la prima repubblica e in effetti le istituzioni vacillano la classe politica messa sul banco degli imputati reagisce prendendosela con i giudici e l'avvio di quella stagione di contrasto aspro tra politica e magistratura che ancora stiamo vivendo Sandro Pertini reagisce da par suo con un'intervista chiara netta persino spietata annanta salvalaggio della domenica del corriere ma presidente lei sa che non potendo accusarla di nulla molti dicono che lei è un po' squilibrato non mi meraviglia niente so che il mio modo di fare può risultare irritante per esempio poco tempo fa mi sono rifiutato di firmare il decreto di aumento di indennità ai deputati ma come dico io in un momento grave come questo voi date questo esempio di insensibilità io deploro questa iniziativa ho detto ho anche subito aggiunto che entro un'ora potevano eleggere un altro presidente della camera ma io con queste mani non firmo lei ne combina di quelle presidente per esempio non concede la macchina a sua moglie per andare a fare lo shopping sua moglie anzi preferisce prendere l'autobus ma com'è possibile non le sembra una provocazione ed è mia moglie si vergognerebbe di andare a campo dei fiori a comprare l'insalata o le pere col macchinone ministeriale sarebbe uno schiaffo alla povera gente un abuso di potere un furto è opinione diffusa che il livello di guardia per la repubblica democratica sia stato superato lei che cosa ne pensa? continuando di questo passo si va verso il suicidio l'unica strada possibile è la correttezza l'onestà io spero che i documenti dei famosi pretori d'assalto vengano vagliati con rigore spero che tutto sarà discusso in aula e nessuna copertura sarà frettolosamente inventata dai padrini dell'assegno sottobanco lei riesce almeno a farsi capire dai compagni del suo partito i socialisti? mica sempre mi accusano di non avere suplesse leggerezza dicono che un partito moderno si deve adeguare adeguare a che cosa santa madonna? se adeguarsi vuol dire rubare io non mi adeguo che cosa ha suggerito ai suoi amici socialisti? dobbiamo tagliarci il bubone da soli e subito non basta il borotalco a guarire una piaga ci sono i ladri gli imbroglioni bene facciamo i nomi e affidiamoli al magistrato lei vuole sapere qual è l'insidia più grande per un uomo politico? quella di innamorarsi del potere un uomo che ha paura di perdere la poltrona l'influenza sugli altri uomini i telefoni i quadri d'autore le pareti la limusine di stato ebbene quello è un uomo perduto ma allora come sottrarsi a questa insidia? basta avere sempre le valigie e la lettera di dimissioni pronte io l'ho detto in alto il più alto possibile amici miei io non resto un minuto di più su questa sedia se la mia coscienza si ribella non accetterò mai di diventare il complice di coloro che stanno affossando la democrazia e la giustizia in una valanga di corruzione perché il problema a mio parere è molto semplice non c'è ragione al mondo che giustifichi la copertura di un disonesto ma non ti rendi conto ma rimproverato qualcuno qui crolla tutto è in gioco l'intero sistema io me ne infischio del sistema se dà ragione ai ladri lo scandalo più intollerabile sarebbe quello di soffocare lo scandalo la gente non lo sopporterebbe e nemmeno io io l'ho già detto la mia Carla tieni pronte le valigie perché qui prima o poi mollo tutto addio salvaggio mi passi a trovare quando passa qui da Roma qui o altrove e lei non è sul San Cotretta sì ma io voglio sapere chi parla brigadero trattentiamo le ultime volontà del del presidente comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onore dell'Aldomoro siamo nel 1978 c'è stato il sequestro e l'omicidio di Aldomoro e degli uomini della sua scorta l'ultimo presidente della Repubblica si è dimesso praticamente sulle soglie di un impeachment i partiti politici non riescono a mettersi d'accordo sull'elezione come rivolgersi a una sorta di figura totemica questa scelta di Pertini Pertini seguì quell'elezione con grande attenzione prima fu candidato quasi di bandiera del partito poi si ritirò e poi come lei ha detto tornò in gara come jolly e fu eletto come un jolly io lo conobbi da presidenza e della Camera feci anche quello che nelle mie condizioni di giornalista direttore di un giornale era possibile fare ed era parecchio affinché lui diventasse presidenza della Repubblica perché lì c'erano delle difficoltà lui era stato scelto dai comunisti i comunisti avevano detto ai socialisti con i quali c'era ancora un pazzo di unità d'azione noi vorremmo uno dei vostri ma non uno qualunque Sandro Pertini e loro dissero noi abbiamo candidato Antonio Giolissi e quindi adesso non possiamo cambiare allora alcuni parlarono con Giolissi tra i quali io che ero amicissimo di Giolissi e appena Giolissi seppe che c'era Pertini sulla Stavolo perché non gliel'avevano detto i socialisti ma io di fronte a Pertini ma figura che si mi è messo in mezzo io adesso domani faccio una dichiarazione fece la dichiarazione allora i socialisti dissero sì e fu presenzato comunico il risultato della votazione presenti e votanti 995 maggioranza assoluta 506 hanno ottenuto voti Pertini 832 doclamo eletto presidente della repubblica l'onorevole Sandro Pertini Buongiorno Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente con l'autoradio sempre nella mano destra un canarino sopra la finestra Buongiorno Italia con i tuoi artisti con troppa America sui manifesti con le canzoni con l'amore con il cuore con più donne sempre meno suore ma da oggi io cesserò di essere uomo di parte intendo essere solo il presidente della repubblica di tutti gli italiani fratella a tutti nell'amore di patria e nell'aspirazione costante alla libertà e alla giustizia onorevoli senatori onorevoli deputati signori delegati regionali viva la repubblica viva l'Italia Pertini è uomo di grande equilibrio politico di carattere indipendente e può dunque essere il rappresentante dell'unità nazionale e il supremo custode della nostra costituzione democratica l'antifascismo di Sandro Pertini è l'antifascismo per il quale devono essere lieti della sua elezione tutti gli italiani quelli che sono le loro idee Tandro Pertini Tandro Pertini è un uomo che ha dedicato interamente la sua vita alle lotte per la libertà e alle lotte per l'emancipazione sociale delle classi lavoratrici del paese e così a 82 anni Sandro Pertini viene trionfalmente eletto presidente della Repubblica e all'età in cui di solito si tramonta Pertini al Beccia Caro presidente questa è la foto che ti dedichiamo oggi il giorno della tua elezione ci sei anche tu là in fondo con i tuoi occhiali senza la pipa che hai indossato in queste settimane semi nascosto da un mare di facce di giovani era un giorno dei primi di ottobre il giorno del funerale di Walter Rossi te la dedichiamo perché i giovani vogliono bene ai vecchi che hanno il coraggio e l'umiltà di mescolarsi a loro almeno nei momenti che non sono quelli lieti ma quelli tristi nei quali la presenza dei vecchi è più importante te la dedichiamo perché in questa foto tu non sei in primo piano in primo piano c'è un ragazzo che poggia la testa sulla spalla di un altro a seguire quel funerale tu sei venuto così senza scorta senza mandati di partito senza pretendere di parlare a nome di qualcuno i milleundici grandi cortigiani che ti hanno votato dopo aver parlato senza rispetto di te e della tua età non compaiono in questa foto tuttavia noi speriamo che questa ti piacerà più di quelle che ti dedicheranno oggi gli altri giornali auguri la redazione di lotta continua mi commuovo ancora un po' e Pertini? allora l'indomani squilla al telefono diretto della stanza dove sedevamo Enrico D'Aglio e Dio e pronto sono il presidente noi sbattiamo giù il telefono e diciamo io sono Napoleone Bonaparte e richiamo una seconda volta poveretto e questa volta insomma si capisce dovete subito venire al Quirinale venite subito vi aspetto domani quanti dove nessuno di noi c'era ovviamente mai stato stiamo parlando di luglio il luglio del 1978 io ricordo che avevo soltanto una giacca che era una giacca di lana pesante invernale che ugualmente indossai sudando in una maniera in vereconda in 4 o 5 per la prima volta in vita nostra abbiamo messo il piede nella sede della Repubblica italiana e ci hanno scortato da lui che immediatamente ha preteso che gli dessimo del tu siamo tra compagni siamo tra compagni cosa vi disse Pertini al di là della simpatia umana l'antifascismo caro Giancarlo per lui la custodia della memoria dell'antifascismo e il mettersi in sintonia con i ragazzi che in quel momento si richiamavano ai valori della resistenza anche se era un momento terribile insanguinato ma lui non era dei teorici degli opposti estremismi pari sono il nostro impegno antifascista ci avvicinava moltissimo a Pertini c'è una vignetta qui che dice finalmente un pregiudicato alla presidenza della Repubblica un coattone tatuato che saluta a suo modo l'elezione di Pertini c'era soprattutto Andrea Pazienza che lo raffigurava e continuato per anni a raffigurarlo e a farne proprio un personaggio del suo pantheon dei suoi personaggi preferiti e appunto non era più il presidente realistico ma era una specie di Don Quixote nel mondo della politica italiana che era un mondo di lupi no? quest'uomo che in fondo aveva qualcosa di Don Quixotesco con grande forza si opponeva ai grandi vizi italiani no? forse Pazienza ha colto proprio quest'anima di Pertini e lì è scattato anche una specie di relazione anche affettuosa da questi due personaggi così diversi l'attenzione è naturalmente tutta concentrata sulla Camera e sui lavori per l'esame della legge dell'aborto per le difficoltà soprattutto che rappresenta il suo cammino parlamentare a causa dell'ostruzionismo operato dai radicali i quattro radicali hanno detto che non si concederanno riposo sono comunque previste brevi sospensioni delle sedute soprattutto per motivi igienico-sanitari mentre tutti i servizi della Camera funzioneranno ininterrottamente con turni forzati e il clima era piuttosto infuocato perché ovviamente l'accordo era tra il PC e la DC per far passare questa legge per non andare al referendum era il clima del compromesso storico insomma un clima piuttosto infuocato e noi radicali venivamo visti come quelli che insomma facevano saltare il gioco di questa quiete parlamentare e noi avendo studiato il regolamento lo applicavamo alla lettera per cui interventi di ore e ore richiame al regolamento emendamenti a migliaia e una delle clausole è che quando si interviene si interviene da in piedi si può avere dell'acqua ma nient'altro niente zucchero niente e io ricordo che in una notte ovviamente l'aula era deserta perché gli altri colleghi andavano a dormire giustamente e quindi eravamo noi quattro da soli e mi ricordo che in una di quelle notti in cui stavo intervenendo ormai da molto tempo ed eravamo un po' esasti vedo a un certo punto salire sulle scale di Montecitorio fino ad arrivare da me parlavo dall'ultimo scranno nell'ultima fila sostanzialmente Sandro Pertini che non solo mi porta l'acqua ma mi porta del cioccolato e fu un gesto che mi commosse molto perché significava siamo forse su due fronti diversi ma questo non vuol dire che voi non abbiate il diritto di applicare il regolamento anche nelle sue conseguenze mica estreme era un istruzionismo pensa un po' ma quel gesto di Sandro Pertini mi è rimasto impresso per sempre di Sandro Pertini Grazie a tutti. Io non le faccio le parole, saranno i fatti che contano, hai ragione, le parole sono vane. E mi chiedo se questi centri di soccorso immediato sono stati istituiti, perché non hanno funzionato. Ci sono state delle mancanze gravi, non vi ho dubbio, e quindi chi ha mancato deve essere colpito. Appena potè lui andò a visitare i terremotati, a rincuolare i superstiti, e dopo di che fece un discorso in televisione che fece cadere il governo. E questo fu un punto di svolta assolutamente traumatizzante per tutto il sistema, perché il Presidente della Repubblica era sempre stato una figura che era dotato di un potere importante, ma lo adoperava sempre nel segno della stabilizzazione. Non ci sarebbe voluto molto tempo per capire che l'idea che aveva in testa della Presidenza era un'idea completamente diversa da quello che era stato il ruolo dei Presidenti della Repubblica fino a quel momento. Quel tipo di Presidenza conteneva le premesse di una svolta populista. Ovviamente non è detto in senso critico, ma un Presidente della Repubblica che decide di stare sempre dalla parte del popolo e quasi mai dalla parte delle istituzioni introduce un elemento di populismo che naturalmente degenerando ci ha portato oggi a vedere quello che sta succedendo. Cioè promettere al popolo delle cose che poi il sistema non è in grado di dare, e questo lui lo fece qualche volta, ecco, fare questo vuol dire fare del populismo. Non deve ripetersi quello che è avvenuto nel Bellice, che a distanza di 13 anni nel Bellice non sono state ancora costruite case, le case promesse. I terremotati vivono ancora in baracche, eppure allora furono stanziati. Fu stanziato il denaro necessario, le somme necessarie furono stanziati. Mi chiedo dove è andato a finire questo denaro? Chi è che ha speculato su questa disgrazia del Bellice? Cioè l'ultima volta che siete usciti in televisione? Quattro terremoti, per la cosa là. Mi sono dispiaciuto perché se io guardavo la televisione, con mio padre e mio fratello stiamo tutti qua a guardarvi, no? Come sempre, perché lo sapete quando vi stimiamo, c'è un presidente per carità. Stato là però a un certo punto avete fatto, mi ricordo buono che sono mio padre e mio fratello, avete fatto, ha riporto là, avete fatto. Chi ha preso i soldi del Bellice? Guardavo la parte qua però. Noi siamo rimasti un po' di agito qua, ma c'era un nuovo presidente che guardava. Chi ha preso i soldi del Bellice? Ha fatto, cioè mio padre ha detto, anche il mio fratello dice, ma no, ti pare che i soldi del Bellice si... e invece avevamo guardato un'altra volta e poi noi da volte, chi ha preso i soldi del Bellice? Ha fatto... Ha detto, papà, ma le sfogliature, i soldi del Bellice che facciamo sti figurare niente con il presidente, che c'è dei soldi? Stamane l'apertura di questo giornale è dedicata ad un fatto di cronaca che da diverse ore sta tenendo tutti col fiato sospeso. Un bambino di sei anni è caduto ieri sera in un pozzo artesiano nei pressi di Frascati vicino a Roma. Si trova ancora a una quarantina di metri sotto terra e si sta disperatamente cercando di salvarlo. Mi dicono, sento il presidente della Repubblica. Il presidente della Repubblica, certo. È una visita inaspettata, immagino. Inaspettata. Qualcuno ha comunicato certamente a lui che si era, ecco, a questo buon punto e che quindi veramente forse è di lui che ha avuto conto del suo modo di fare, cioè di correre incontro in questi momenti. È molto continuato che lo vediamo che sta chiedendo adesso. Quello fu un immenso psicodramma nazionale. Pensiamo a com'è la situazione. C'è un bambino che è andato a finire in un pozzo e già questo proprio appartiene alla letteratura più squisitamente psicoanalitico-orroristica, diciamo. E sappiamo che va sempre più giù, sempre più giù e non si riesce a fermare questa discesa all'inferno del bambino. Con la speranza continua che qualcosa si possa fare, con il paese e le persone l'intorno, con una diretta televisiva. Poi arriva pure Pertini che in qualche modo è di disturbo, diciamo, a questa sequenza psicologica di tutti noi che guardavamo. Perché? Perché è di disturbo? Perché intanto arriva come capo di Stato, laddove occorre qualcuno che si infili nel buco e cerchi di acchiappare il bambino, l'ultima persona che possa farlo è Pertini. Qualcuno ha detto che dopo quella notte il rapporto tra gli italiani e la televisione cambiò per sempre. Beh, noi in televisione eravamo abituati a vedere drammi scritti quanto tali, quindi vedere il teatro drammatico, il film drammatico, eccetera, mai in diretta un dramma reale. E quella fu la prima volta che la televisione fu veramente televisione, diciamo, nella sua crudezza. Tempo e luogo erano quelli, erano quelli della realtà e la realtà era ovviamente terribile. una presidenza contrastata nella quale ne succedono di tutte. Terremoto, vermicino, attacchi terroristici, mafia e anche nel bel mezzo della presidenza l'esplosione dello scandalo della P2, la scoperta degli elenchi in una loggia massonica riservata, segreta, deviata, secondo molti, con un progetto politico per cambiare l'Italia. Ne parliamo con uno di quei magistrati che scoprì quella loggia. L'importanza di aver avuto allora un presidente della Repubblica come Sandro Pertini è qualche cosa di, secondo me, proprio di palpabile. Tra le persone i cui nomi risultavano nelle liste c'erano tre ministri della Repubblica, prefetti, questori, c'erano una quarantina di parlamentari che appartenevano a quasi tutti i partiti politici. C'era il nome di quasi tutte le persone che appartenendo ai servizi di sicurezza avevano depistato le indagini sulle stragi a partire da quella di Piazza Fontana per arrivare poi fino a quella della stazione di Bologna. C'è subito venuto in mente che, stante il contenuto delle carte sarebbe stato assolutamente necessario, informare le istituzioni della nostra scoperta, del contenuto della scoperta e dei rischi, dei pericoli che questa organizzazione rappresentava per la collettività, per le istituzioni. Il governo ha atteso quasi due mesi prima di decidere di pubblicare le liste della P2. Insomma, noi ci sentivamo molto garantiti dal fatto che esistesse in quella carica, in quella posizione istituzionale una persona come Sant'Opertini. il presidente dietro i vetri un po' pannati fuma la pipa il presidente pensa solo agli operai sotto la pioggia Ben detti, com'è nata Sotto la Pioggia? Dunque, Sotto la Pioggia è nata per una strana cosa che rabbisava in Pertini, l'estrema tristezza di un'Italia che comunque si trovava in un territorio non suo, quindi il Libano, ad aiutare diciamo una guerra che forse lui non avrebbe voluto e forse manco gli italiani. Mi faccio interprete di una domanda che gira in Italia da 30 anni. Perché il presidente pensa soltanto agli operai? Perché in mezzo a questo mondo che si stava internazionalizzando lui in effetti aveva come i suoi amici, quelli che sentiva più a cuore era la classe operaia. Lui usava un linguaggio semplice, un linguaggio che tutti vorremmo praticare anche oggi, ma semplice davvero, popolare davvero, pop davvero. E quindi anche quando stava altrove lui pensava sempre che i problemi e i problemi della classe operaia, la gente più umida. Persino alle 11 in punto un giorno mi telefona e mi dice so che sei in riunione. Dico sì, siamo in riunione. Mi messi in viva voce e lui partecipò alla riunione. E questo a quel punto lo ripete almeno due volte a settimana passava il tempo a partecipare alla riunione. E naturalmente quando partecipava parlava sempre lui e impostava lui i temi. Ma voi vi occupate domani di questo? Ma vi occupate di quest'altro? Quelli che sapeva lui ce li diceva prima. e quindi noi facevamo un giornale che era diciamo aveva l'esclusiva su alcune cose tra l'altro molte importanze perché venivano dal Quirinale. A Rete Unificate trasmettiamo da Selva di Valgardena il messaggio del Presidente della Repubblica agli italiani per il nuovo anno. Miei cari compatrioti entro come consuetudine nelle vostre case per porgervi gli auguri più fervidi per l'anno nuovo che sta sorgendo. L'augurio che il nuovo anno sia per voi un anno di serenità e per il mondo intero un anno di pace. C'è qualcuno secondo lei nel panorama politico italiano che può ricordare Pertini che può averne raccolto l'eredità? No, questo non lo so. Sicuramente è un'idea che non mi è mai venuta in mente. Io non la vedo. No, ancora no. Io lo spererei. L'entrata deve ancora venire. Sarebbe un personaggio ai margini della politica. Ha dato agli italiani il senso di speranza e il senso che si possa essere giovani anche a 80 anni. Un periodo così di, diciamo, soprattutto odio verso la classe politica. C'è proprio perso completamente l'amore per la politica. Magari un personaggio come Pertini potrebbe soprattutto far avvicinare i giovani al mondo politico. Io penso che nell'età nostra non ci sia stato un personaggio con il carisma e i concetti forti da rapire una generazione. Secondo me è il simbolo di una politica che non esiste più. È vero che Pertini avrebbe amato essere rieletto presidente della Repubblica? Non parliamo. Questo fu l'ultimo trasto della storia tra lui e me. Ma Cani come diceva guarda lui vuole a tutti i costi essere rieletto e sta mobilitando tutti i possibili amici per questo. Adesso vedrai che uno di questi giorni viene da te per dirti questo. Ma Canico mi disse guarda che ha preso la macchina e sta venendo da te. Allora io sto prendendo la macchina per raggiungervi. Ma quello arriva pensando che fai tu? Che devo fare lo scorso e poi cerco di dirgli che non è il caso non so non lo so. Allora infatti arriva lui poi arrivò un meccanico scesi anch'io andai lì eccetera e lui mi disse se io me ne vado chi va al Quirinale? Io non lo so ma chiunque vada al Quirinale il Quirinale è vuoto quindi secondo me io devo essere rieletto ma per essere rieletto ho bisogno di due cose che ci sia qualcuno che lo proponga lanci l'idea e poi il popolo figurati il popolo è con me. Il Parlamento io temo che non si voti perché nella tradizione italiana non esiste finora nessuno è stato rielesso due volte quindi tu però diventi senatore avvisa quindi sì vabbè ma senatore avvisa io vivo poco adesso vivi poco allora speriamo che tu superi cent'anni ma se vivi poco vivi poco pure al Quirinale sì ma al Quirinale sto al Quirinale e da lì comando tutto se ci sono io perché non vedo chi altro c'è fammi un nome no dico Sandro quale nome non ce l'ho certo come se tu sei stato eccezionale ma insomma andavo avanti a un certo punto lui disse vabbè ho capito ho capito allora telefono a Carla perché ma dico tu che cosa avresti voluto da me che tu scrivessi un articolo di fondo dicendo che io dovevo essere rieletto se tu non lo fai io non sarò io non ho altri modi per far sapere che voglio essere rieletto questo è l'ultimo ricordo che io ho di lui che purtroppo però era l'età perché lui aveva superato largamente gli ostazzani ma era un discorso di vanità o era un discorso pensare all'Italia appunto no lui era convinto non era vanizoso era era voleva comandare insomma perché è convinto di essere l'uomo giusto sì dopo sarebbe stato eletto consiglio all'unanimità sì chiaro presidente ci rendiamo conto di non essere stati particolarmente obiettivi in questo nostro ritratto della sua vita anche quando abbiamo sottolineato come per metterla in difficoltà gli aspetti più particolari del suo carattere quelli più discutibili beh alla fine lo abbiamo fatto con una grande benevolenza e ci siamo confessati adepti di Sandro Bertini una volta Enzo Biagi le fece un'intervista e le chiese ma ti sei mai sentito sconfitto altro che rispose lei tante volte ma non sono mai venuto meno all'ottimismo questo era l'insegnamento di Antonio Gramsci l'ottimismo ottimismo per il popolo italiano e soprattutto ottimismo per i giovani italiani la generazione a cui ho appartenuto disse lei a Biagi è stata sconfitta tante volte e forse ha fallito in tanti dei suoi sogni ma ai giovani è giusto che i sogni continuino a sognarli e che noi li aiutiamo a farlo io non lo so se lei ci ingannava signor presidente però noi vogliamo credere tardelli scilea oriali giustamente oriali non affonta cade il novantesimo ancora oriali c'è un fallo fuoiali da parte di Garda e Sester 15 secondi oltre il tempo regolamentare rimessa in gioco per farlo laterale Rossi guadagna tempo anche Rossi perde la palla siamo 40 secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca gli sbagli balla al dietro per Müller per Maschinea Bergomi Gentile è finito campioni del mondo campioni del mondo campioni del mondo Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3 a 1 ascoltando il suo discorso mi è venuto anche il rimorso l'abbiamo visto alla tv lui ci piace sempre più è tornato al Quirinale per combattere ogni male e baciando la bandiera ci saluta e buonasera come fai come fai fai è tornato al Quirinale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti